E' stata una questione di attimi, un boato e poi il dramma sfiorato. Siamo a Nardò, in via Cecchi, traversa della centralissima via Duca degli Abruzzi. Intorno alle 6 del mattino questo camion della ditta bianco, che si occupa della raccolta della nettezza urbana in città, è letteralmente sprofondato in una voragine che si è aperta all'improvviso nell'asfalto. Tanta paura per il conducente e il collega che era con lui a bordo dell'auto compattatore, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, anche se il mezzo, in particolare la parte posteriore, è affondato nel sottosuolo per circa due metri. I primi ad accorrere sul posto sono stati i vigili del fuoco, che hanno avviato tutte le procedure necessarie per tirare il camion fuori dalla voragine. Poi sono intervenuti i carabinieri ed anche i tecnici comunali impegnati negli accertamenti di rito per verificare l'origine dell'incidente registrato su un terreno che, a detta degli esperti, è ricco di infiltrazioni ed è anche abbastanza argilloso, binomio questo che potrebbe averne indebolito la tenuta con le conseguenze note. La circolazione stradale è stata ovviamente sospesa, i disagi non hanno riguardato solo la viabilità, ma anche l'erogazione di luce e gas, riattivati solo dopo un apposito sopralluogo da parte dei tecnici incaricati.